Cosa è mancato oggi al suo Bari? Credo che oggi abbiamo fatto una brutta prestazione, inaspettata. Abbiamo perso meritatamente, questa volta non possiamo dire niente perché sicuramente i nostri avversari sono stati più bravi. Noi sicuramente dopo un mese e mezzo di crescita oggi è stata una prestazione inaspettata e sappiamo che siamo dispiaciuti e amareggiati per noi, per la gente. Perché potevamo per la società, perché sicuramente la prestazione si può perdere ma noi oggi abbiamo giocato male, quindi abbiamo meritato di perdere e qui c'è poco da dire. C'è da pensare subito all'altra perché quando ci sono queste partite bisogna reagire subito, non pensare a tutto quello che è successo ma guardare bene quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo fare per evitare questi scivoloni. Ad un certo punto una partita molto brutta sotto tutti gli aspetti ha provato a mettere molti uomini offensivi cercando forse quella giocata che poteva sparigliare. Sì, ma a quel punto dovevamo cercare qualcosa perché nonostante il secondo tempo i nostri avversari hanno creato poco noi dovevamo fare qualcosa in più in chiave offensiva per cercare di raddrizzare la partita e c'è stata qualche occasione però sicuramente dovevamo fare meglio.